Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. I Verdi tornano in Consiglio Comunale a Martinsicuro dopo 15 anni. A fare il suo ingresso sui banchi dell'opposizione in questo secondo mandato da sindaco di Massimo Vagnoni sarà Marta Viola. La giovane laureata in Psicologia, Fotografa e Scrittrice ha rastrellato oltre 140 preferenze nella lista Europa Verde a sostegno di Simona Lattanzi, sindaca. L'opposizione sarà sicuramente costruttiva, di monitoraggio, osservazione di quello che sono i progetti della maggioranza. Avremo un occhio attento alle esigenze delle persone, delle varie tipologie di servizi necessari che vanno implementati. Quindi vogliamo portare soprattutto un'attenzione legata come Europa Verde all'ambiente, che significa benessere e qualità della vita per tutti, ma anche lavoro in un'ottica più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che umano. Che tipo di campagna elettorale è stata secondo lei? Posso parlare per quella che abbiamo fatto noi a sostegno di Simona Lattanzi. Abbiamo fatto una campagna elettorale molto seria, coerente con i nostri principi. Quindi ci siamo rivolti a chi vive qui. Abbiamo cercato di incontrare il più possibile i rappresentanti delle associazioni e delle varie realtà, anche di fasce ed età differenti, per capire innanzitutto qual è il bisogno. Deve partire dal cittadino e a questo noi dobbiamo rispondere.